ormai sono passati più di sei anni quasi da quel giorno che ci siamo incontrati e non ci siamo piaciuti questo video è dedicato a te collector edition di idam purse a te dove ho sfogato in questi anni tutta la mia frustrazione il mio senso di dolore perché ogni volta che vedevo te vedevo quanto ero stato a comprare un gioco al day one soprattutto in collector edition io che non mi ero mai fatto turbare da queste cavolate delle collector edition io che evitavo sempre i giochi al day one perché aspettavo che correggessero i problemi ma invece questa volta non so non so perché mi sono fatto convincere dalle parole di questo sito web e quindi tu sei diventato l'oggetto dalla mia frustrazione involontariamente e ingiustamente e sono qui per chiederti scusa anche perché dovrei soprattutto ringraziarti perché grazie a te collector edition di wash dogs grazie a te idam purse su questo canale ho vinto la mia prima battaglia di questa grande guerra all'informazione videoludica italiana che c'è giuseppe che da quando lo conosco oramai sono sono due anni ce l'ha con te perché ha comprato la dead set dead set edition di watch dogs per aver letto la tua recensione e la rita la ritiene ancora tutt'oggi un pacco diciamo che gli posso offrire una scena se ci parziale risarcimento di questa cosa a parziale di questa cosa